Quando un imbecille dà dello sporco nero a un ragazzo di colore è un vergognoso episodio di razzismo. Quando un imbecille scrive sul muro contro gli ebrei fineggiando ai campi di concentramento ad Auschwitz è un vergognoso episodio di razzismo. Quando un insieme di imbecilli canta il vulcano di una città augurandosi con la lava copra i suoi abitanti, abitanti e vittime del morbo colerico, di movimenti tellurici ma soprattutto abitanti che non hanno mai utilizzato l'acqua per lavarsi. Che cos'è questo? Un consiglio amichevole? Un suggerimento fraterno? Un simpatico scherzo? O un vergognoso episodio di razzismo? Eh? C'è? Grazie. Grazie.